ci troviamo alla moncianella località tra fabrizia e mongiana nel parco regionale delle serre calabre guardate che meraviglia un prato pieno di fiori in questa zona sono stati avvistati dei lupi e io sono venuto proprio per rendervi partecipi di questa meraviglia estiva sullo sfondo guardate voglio ingrandire l'immagine tutta la catena di montepecoraro sembrerebbero le dolomiti viste così da lontano invece no è la catena delle serre calabre guardate dove c'è il mio dito in questo punto qui vedete la quella è la parte più alta montepecoraro 1425 metri dove c'è anche il meraviglioso borgo di nardo di pace guardate che meraviglia sembra la sila invece sono le serre quindi vedete che anche nel parco delle serre